www.moreziopoli.it, edizione estiva fino a fine mese e fino a fine agosto, nel riservo economia e lavoro, nuovo articolo nella rubrica risparmio e finanze di Giuseppe Undegno. Tempo d'estate e di riflessioni. L'articolo si apre così, siamo arrivati anche quest'anno alla pausa estiva in Ubativalino ed è curioso come le percezioni del tempo variano profondamente a seconda dell'età e delle esperienze e non ha un andamento lineare, come ad esempio nei bambini che hanno un senso del tempo molto diverso da quello degli adulti, dato che per loro contala adesso con i bisogni che hanno al momento presente. Quindi vi lascio poi leggere tutto l'articolo. Interessante riflessione estiva, sia in digitale che in edicola a cartaceo. Una buona educazione finanziaria a tutti e con i nuovi articoli a fine mese. Buona educazione finanziaria e buona estate a tutti!